C'è una mamma che va arrabbiata dal figlio e gli dice Tu che numero sei? Perché lei sta contando i figli? Perché ne ha centinaia? Perché ha cento figli questo? Mi fai finire? È una barzelletta? Scusa, scusa. Mentre lei conta i figli, il figlio dice Io so contare fino a mille! E lei gli dice Allora tu non sei mio figlio? E lascia il marito. Il figlio si attacca a internet e dice Ma da quale sito? Ah, 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 ah! Non è finita, non è finita, non è finita. Allora, il figlio con il computer esce con una tipa E se la vuole portare a casa per farsela e raccontarlo agli amici Ma agli amici non gli interessa niente Infatti gli fanno subito una domanda sul computer nuovo E visto che anche lui non può raccontare agli amici quello che fa con la tipa La porta al pozzo delle desiderie e la butta giù E mentre cade e dice Però funziona davvero sto pozzo? Ah, 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 ah! Cioè, non è finita, non è finita Allora, il tipo, quando torna dal pozzo con la bici Ce l'aveva anche all'andata la bici, ma non te l'aveva detto E cosa fa? Va dalla mamma che stava contando i figli Ti dice, guarda mamma, senza mani, i cani dalla bici Si spacca tutti i denti Ah, 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 ah! Ma con i denti Ah, no, 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 non è finita Non è finita, se no, non fa ridere Aspetta, il tipo, i cani dalla bici Si spacca i denti e improvvisamente Diventa negro Diventa negro, cammina, cammina, cammina E incontra un altro negro Cosa fanno? Portano la bici in una cabina telefonica Per ripararla Uno entra nella cabina E l'altro aspetta fuori con la bici Quando questo esce L'altro gli dice, dammi tutti i soldi Dammi i soldi o ti taglio la gola E l'altro gli dice Sono 30 secondi che sono caduto E già c'è un ciclista negro Che mi rompe i maroni Tra l'altro Tre, tre, tre parti Tre parti